Siamo molto felici di presentare la prima mostra in galleria di Yan Yan Wang, un artista cinese ma ha cresciuto in America dove tuttora vive. Per più di un mese Yan Yan ha vissuto a Favignana e si è lasciato ispirare da questo bellissimo contesto per creare un gruppo di 18 tele tutte di medio grande formato. In una sorta di diario ogni giorno ha dipinto queste opere intitolate Silenzio del Tempo facendosi ispirare dalla natura, dal mare, dalla storia, dell'isola, dalla baia di Callarossa e da questo contesto straordinario. Molto vicina la calligrafia cinese dipinge le tele a terra con questo acrilico molto diluito, gouache, inchiostro, creando delle sfumature uniche. La mostra in galleria presenta una selezione di queste opere e una narrazione di questo viaggio emozionale che ha fatto. Per l'occasione abbiamo pubblicato un catalogo e alcune di queste opere sono state presentate nell'ultima edizione di MiArt in dialogo con dei capolavori di artisti moderni, artisti estratti, opere degli anni 50-60 che la stessa Yan Yan sente molto vicina a lei. Lo stand di MiArt è stato addirittura disegnato dalla stessa artista che adora lavorare con il wallpaper, con i tessuti, le piace sperimentare anche materiali nuovi e ha creato lei stessa un dialogo tra opere, delle sue opere appena dicenti, appena dipinte e opere invece dei grandi maestri dell'astrattismo internazionale.